Good morning guys! Lo so che me ne dovrei fregare altamente senza andare a fare questo video perché io sono in pace con me stesso e non devo perdere tempo a motivare, a spiegare se mi sono chiesto se il cervo stesse bene o no. Oltre al punto in cui si è visto durante il video quel breve frammento io subito dopo l'incidente, appena ho tirato sulla moto, ho chiamato Marta, la mia ragazza, per dirle ho fatto un incidente, appena ho messo giù, sono andato a vedere se il cervo stesse bene, se potevo vederlo e appunto a chiedermi questo. Non l'ho messo nel video perché mi tornava, non l'ho messo nemmeno la chiamata con Marta, la mia ragazza, perché mi tornava meglio in come ho fatto il video per la fruità del discorso, sono andata troppo lungo, noioso e non mi tornava bene come tutto quanto scorreva. Però perché faccio questo video? Non perché mi interessi, io debba riscattare il mio onore, no perché mi sono stufato in tutti quei commenti che ancora dopo due mesi continuano a venire, ma il cervo te ne sei fregato, sei un egoista! Tra l'altro questa gente non va avanti nel video perché se no vedrebbe che me ne sono interessato, ma velocissimamente, ma almeno potrò linkare questo link alla risposta senza dover spiegare più niente, mi sono stufato. quindi ora beccatevi quello che ho fatto. oddio! come sta l'animale? come sta l'animale? ciao amore, premetto, sto bene, ho fatto l'incidente, grazie che si è fermato eh, grazie di cuore. ho visto che lei che ha fatto il salto, non così, e dopo ho visto l'animale scappare? no, sotto si è alzato su e ha fatto il salto, prego. ciao! cazzo! questo sarà l'animale, starà bene? starà bene l'animale? speriamo di sì. sicuramente ne sono assolutissimamente certo del fatto che qualcuno dirà eh, ma lo hai chiesto solamente due volte, potevi interessarti di più, potevi buttarti giù da quella discesa e andarlo a cercare e correre come un pazzo in mezzo al bosco per cercare il povero cervo. vorrei capire una cosa ragazzi, ma voi quando ho fatto l'incidente, se fosse capitato a voi eravate lì a chiedervi come stava il cervo? sareste rimasti lì a cercare di capire se il cervo una volta scappato dove fosse, sareste andate a cercarlo? siate coerenti con voi stessi, siate realisti in quello che scrivete e dite. comunque, vi ho dimostrato che avete scritto una cosa sbagliata? bene, ho rimesso i detrattori al proprio posto. ora sapete come è realmente andata. ciao ragazzi!